buongiorno mi trovo ad agno in una palazzina di tre piani vediamo un appartamento di tre mezzo locali che si trova al primo piano entriamo abbiamo questo lungo atrio con armadia muro inseriti nel corridoio di qua troviamo invece il salotto col balcone in fondo alle camere e di qua la cucina abitabile cominciamo la zona qui abbiamo la cucina che è completa con frigorifero congelatore il forno ad aria calda un piano cottura in vetro ceramica la cappa e la lavastoviglia che si trova qui con finestra cucina che si siano abitabili scusate abbiamo un pavimento con piastrelle color bianco la cucina è stata inserita un anno fa esatto quindi è nuova di qua abbiamo il salotto l'appartamento ha una superficie totale di circa 70 metri quadri nel salotto abbiamo questo bel parche un trecciato andiamo a vedere com'è il balcone infissi sono tutti i pvc con vetri doppi si sviluppa in lunghezza comunque si può stare tranquillamente qui l'estate anche qua con gli alberi diventano ben di verdi bene proseguiamo nel salotto troviamo nel salotto nel corridoio scusate qui questi ampi armadi a muro sono quattro ante e anche sopra bene qua abbiamo le due camere questa è la camera matrimoniale la doppia è stata in questo caso data ai figli perché la spuntano di più hanno creato qua questa zona dress room qui abbiamo una cameretta singola dietro abbiamo ancora questi vestiti letto grande appartamento molto semplice carino contenuto e qui troviamo il bagno bagno con finestra bidet e la vasca qui l'affitto di questo appartamento corrisponde a 1150 franchi le spese invece corrispondono a 250 franchi quindi per un totale di 1.400 franchi conguaglio già incluso nelle spese quindi non c'è conguaglio finale possibilità di un passeggio esterno a 50 franchi oppure in box a 100 franchi la caparra corrisponde invece a 3 mensilità per un totale di 4.200 franchi e l'appartamento è rispondibile da subito come si vede come si evince dal video è una situazione di insomma si sta programmando quello che è il trasloco bene ti affitto per fissare una visita chiama lo 078 404 5675 5 5 5 6 6 8 8 9 8 9 9 9 10 10 11